Allora, innanzitutto un benarrivato da Grigolon, caffè storico dal 1912, devo semplicemente fare dei ringraziamenti a colui che ha creato tutto questo, e quindi un signore che si fa Francesco, arriva e decide di creare questo posto. Quindi non posso che ringraziare questo uomo e tutte le persone che sono passate negli anni fino ad arrivare fino ad oggi. Devo ringraziare la mia famiglia, devo ringraziare colui che ha creato questa manifestazione, signor Gianni Ferrero, e coloro che hanno preso tutta questa manifestazione l'hanno trasformata in qualcosa di bello. Sono molto onorata di poter veramente dar lustro a tutte le persone che sono arrivate prima di me e che mi hanno insegnato sicuramente a creare qualcosa. e quindi non posso che augurarvi una buonissima serata. Questa sera i caffè storici sono qui presenti e ce ne sono ben dieci. Quindi questa sera darò la parola a Edoardo che ci farà un piccolo talk sulla nostra strada che vogliamo percorrere. Dopodiché ognuno di loro ha portato qualcosa da assaggiare, ve lo presenterà e quindi faremo degli abbinamenti con il vermut e con del cibo sia salato che dolce e quindi man mano che arriveranno le cose poi chi l'ha portato lo presenterà e presenterà il proprio caffè storico.